Schiamazzi, insulti, immondizia abbandonata e vandalismi ad opera di un gruppo di ragazzi erano stati segnalati nei mesi scorsi nella zona di Vicolo del Guazzo e via Bofalari a Piacenza. In alcuni casi erano state chiamate anche le forze dell'ordine e nel quartiere era partita una raccolta di firme volta a chiedere alle istituzioni un intervento con finalità educative. Ne sono seguiti alcuni incontri in prefettura e l'affidamento dell'attività agli educatori di strada, un team nato nel 2012 formato da liberi professionisti come educatori, sociologi e psicologi già intervenuti in altre zone della città. Abbiamo una squadra di tre educatori che scendono proprio sul territorio per tre pomeriggi a settimana, c'è proprio un aggancio relazionale diretto, poi se le normative covid lo consentono è proprio un lavoro di presenza, un lavoro di relazione, un lavoro di creare insieme alle persone coinvolte un senso diverso di stare insieme, di fare cose, di passare tempo. Diciamo che il momento è molto difficile per cui soprattutto i ragazzi hanno bisogno in questo momento di essere agganciati e ascoltati. Per i residenti è stato preparato un questionario. Ci serve un pochino per capire quali sono i bisogni e le necessità del territorio, per capire anche quali sono le aspettative che hanno sul territorio, cercare di capire se ci sono delle alleanze che possiamo trovare per allargare un pochino la rete che si sta formando, quindi rendere un pochino protagonisti gli adulti, penso che ci siamo noi che magari facciamo un pochino d'accollante con i ragazzi, però attorno c'è una comunità che ha bisogno magari di crescere e di crescere insieme. Donezio Molinari della parrocchia di Santa Maria in Gariverto ha già manifestato la volontà di mettere a disposizione locali e strutture sportive della parrocchia. Grazie.